Io vi chiedo di aiutarmi in un'operazione che stiamo cercando di fare. Voi sapete che il governo italiano dopo molto tempo è tornato alla stabilità e sappiamo quanto sia importante la stabilità, lo sapete anche in Brasile. Molti imprenditori italiani vorrebbero tornare a investire qua. Ci chiedono che ci sia stabilità, la stessa cosa che hanno chiesto a lungo in Italia. In Italia ci sono stati 63 governi in 70 anni. Frase tipica, dura più un gatto in autostrada che un governo in Italia. Con tutto il rispetto per i gatti che dobbiamo avere e che non mancherà. Bene, adesso che siamo tornati alla stabilità, adesso che finalmente il percorso di riforma è iniziato e tra l'altro avrà un appuntamento importante nel prossimo autunno con anche il vostro voto e sarà importante che votiate, poi sceglierete come votare. Naturalmente ciascuno ha le sue idee, io le mie, ma è importante che la vostra comunità si faccia sentire.